I Cnusa Team contro Team Prodon si gioca al campo della futura Sales, ci sono in palio le semifinali della categoria over 40, I Cnusa che parte alla grande dopo tre minuti, Maurizio Zancheddu con questo colpo di testa porta in vantaggio la formazione di Mulas che randoppia al sesto e con chi se non con Bomber, Giuseppe Mura e Giulio Ledda ha la possibilità di ridurre le distanze, Mauro Caria gli dice di no dal dischetto, I Cnusa scatenata a Riccardo Mingoia, il triangolo con Mura e poi il destro vincente, il terzo gol dell'I Cnusa Team, qui Serra, pallone per Ledda che incorna alto sopra la traversa, Chiminelli va a pescare ancora Riccardo Mingoia che evita Pugendu, conclusione sulla quale Andrea Porcu mette una pezza, Poi Bagatti, Filippini ci mette una pezza adesso, Mura entra in area conclusione della traversa, a dire di no al numero 21 della formazione di casa, ancora Mura, qui bravo Andrea Porcu alla sua sinistra, occhio che può partire il contropiede della formazione ospite, Pugendu il pallone che arriva per Serra, era di rigore, Mancino vincente, accorcia le distanze, il prodotto è qui Mura, attraversa, ancora Mura, 4-1 e Cnusa, minuto numero 23 si va a riposo con questo parziale, Cnusa 4, Prodon 1, andiamo adesso a vedere quello che succede nel secondo tempo, pallone per Fabrizio Mingoia, poi dentro Nicola Masella, tutto facile per lui, ancora il numero 15, entra in area, e col destro, in diagonale fulmine il portiere avversario, Cnusa scatenata, Masella, e qui Andrea Porcu mette una pezza, poi Mura attraversa, è già la seconda colpita dal numero 21, da quest'altra parte, Leda, Pano e poi ancora lui, Giulio Leda da due passi, non può sbagliare, 2-6, Bagatti da fuori, qui Caria, non proprio benissimo, punteggio di 3-6, Team Prodon rivitalizzato, Marongiu, palla dentro per Bagatti, che la domestica, poi col Mancino, 4-6, ci crede la squadra di Marino, pallone dentro, Giulio Leda, Mancino, ancora male Mauro Caria, 5-6, ma non c'è più tempo, in semifinale vola l'Iclusa Team.